Non fare una bella fine. Infatti è così, un altro ascoltatore ha una domanda? Buonasera. Ciao, sono Ugo. Io non mi interesso molto di calcio, ma visto che tu invece ti interessi, una domanda secca. Chi lo vince? Chi? L'europeo. Ah, l'europeo? L'Italia. Eh? Ragazzi, sogniamo almeno, più che non giochiamo la prima partita. Sogniamo un po', poi avremo tempo di criticare per anni, 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 quello che l'Italia non è riuscito.